... Girava la voce che gli zingari del circo avessero messo in piedi la brigata partigiana Leone e che l'uomo calamita fosse il loro comandante, al punto che i nazisti, per scovarlo, avevano costruito una bussola apposta e trappole piene di ferraglia per attirarcelo dentro. Io invece sono arrivato da lui grazie a un amico e così sono diventato l'unico partigiano della brigata Leone che non sa nemmeno tenere in aria due pandine. Eppure, a forza di starmene con quei compagni, uno strano potere l'ho sviluppato anch'io.